Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento Iron Man. Edizione De Agostini in scala 1 a 3, altezza 60 centimetri, circa 4 chilogrammi di peso Marvel 2022, uscita numero 108. Come sapete io ho deciso di continuare queste ulteriori 20 uscite opzionali che la De Agostini ha messo a disposizione per colori quali potevano decidere o meno di continuare. Io ho deciso di continuare e questa è l'uscita numero 108 dell'armatura danneggiata, la serie Battle Damage o come si dice. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina che si ripete in ogni collezione dove potrete trovare servizi e numeri utili e qui se avete piacere oltre che guardare le immagini anche dare lettura lo potrete fare. Intanto colgo l'occasione di ringraziare tutte le persone iscritte al mio canale e che hanno deciso di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Ringrazio tutti quelli che mi guardano e se avete piacere ricordatevi anche di iscrivervi. Grazie! E poi, come vi ho già detto, anche dal filmato che potrete trovare nella playlist. Ne ho fatti tre e in arrivo il grande Mazinga Z. Ragazzi, 75 cm con tutto il centro ricerche fotoniche, un qualcosa che se si ha la possibilità bisogna assolutamente farlo. Non esiste nulla di così bello. Nulla! Andate a vedere, guardate come è strutturato. Io lo sono guardato tutto, tutto. E vi dico che vale la pena di farlo. Come vi ho detto, non è né pane e non è neanche acqua. Non è indispensabile. Ci sono delle priorità nella vita. Io lo faccio perché mi piace, faccio dei sacrifici, mi tolgo delle cose e cerco di fare crescere ulteriormente il canale. Quindi, mi raccomando, se avete piacere, non dimenticatevi di iscrivervi. Qui possiamo vedere cosa ci danno. poi andrà unito nella prossima sessione di montaggio a questo pezzo sotto. Ecco qua. Adesso ci danno questo danneggiato, poi ci daranno anche questo con un foro, se non sbaglio, riprodotto qui come di un missile o qualcosa del genere. Comunque molto carino. Andiamo avanti. Qui è quello che abbiamo montato nell'uscita numero 107. La protezione del polpaccio sinistro. E guardate che meraviglia queste immagini. Ecco perché ci tengo a condividerle con voi. Non tutti hanno scelto di continuare. Ecco qua. Bellissimo. Guardate. Andiamo avanti nella lettura. Pensate che, parlando sempre del grande Mazinga Z, una volta che verrà appoggiato sulla base del Centro Ricerche Fotoniche, che è uno spettacolo perché va a completare veramente quello che già è completo di suo. Quindi è veramente una ciliegina ulteriore sulla torta, come si usa al dire. e stavo appunto dicendo che quando verrà appoggiato Iron, chiedo scusa, è che sto facendo Iron, sto facendo Robocop, adesso arriva il grande Mazinga, qualche confusione la faccio mentre parlo. Abbiate pazienza. Dicevo che quando andremo poi a misurarlo, una volta che il Centro Ricerche Fotoniche sarà completato, bene, il punto più alto sarà circa 90 cm. Rendetevi conto. Abbiamo quasi finito. Abbiamo superato i 2.000 iscritti. Voi siete la vita del mio canale. Ecco perché io dico abbiamo. perché senza di voi io non vado da nessuna parte. Spero di aver migliorato le immagini. Piano piano, con impegno, cercherò sempre più di migliorarmi. Ecco qua. Nella prossima uscita costruisci il braccio sinistro della matura danneggiata. Andiamo a vedere cosa abbiamo trovato e poi facciamo una panoramica di tutto quello che abbiamo montato fino al numero 108. come vi ho spiegato anche per gli altri video dei pezzi precedenti. Non è stato grattato, ma è stato prima fatto rosso, come quello che abbiamo montato di base, e poi sono state aggiunte queste pitture sopra. Guardate, hanno annerito le due borchie che invece nell'armatura questa sono argentate. qui le hanno annerite per il fuoco, insomma, si sono bruciate. questo poi andrà... scusatemi che sto cercando di... così è troppo... ok... questo poi andrà qui... poi alla fine vi farò vedere l'armatura completamente rivestita con i pezzi appunto delle 20 uscite dell'armatura danneggiata. adesso vi faccio vedere quello che abbiamo trovato fino a questa uscita. diciamo che è la 108, ma è l'ottava uscita delle 20 previste. ecco... voglio fare un primo piano per farvi vedere tutto... come è stato fatto... vedete? io lo trovo molto bello. e questo è... il nostro casco. poi abbiamo montato la mano... il coprimuscolo destro... fate attenzione... voi che avete montato l'armatura... perché qualcuno forse non lo sa... ma anche questi sono contrassegnati... R destro, L sinistro... attenzione... la stessa cosa vale... per la copertura dell'avambraccio... quella che va a coprire poi le quattro viti... questa è la R ovviamente... perché stiamo parlando sempre del lato destro... eccola qui la R... il gomito... molto bello mi piace... tutto mi piace come verniciato... non credevo che... sarebbe stato fatto così bene... ecco qua... questo è il copri polpaccio... questo è il sinistro... vedete... L... bene... e questa... ah no... c'è anche questo... eh eh eh... questa l'abbiamo anche trovata... ovviamente nelle uscite precedenti... un bel pezzo grande... l'addome... ecco infine... abbiamo trovato questa... con... le due borchie... dove sono andate a finire le due borchie... sembra il gioco delle tre carte... apri chiudi... apri chiudi... dove sono andate... oh ma questa è bella... eccole... oh signor... erano davanti al... cavalletto del telefonino... eccole... bene... io direi che... con questo possiamo salutarci... facciamo una ripresa un po' più... completa... ecco qua... ma sì... viene un pollato del cubo box... non è molto carino... ma almeno così... riusciamo a vedere... il tutto... bene ragazzi... a questo punto... Michele vi saluta... vi ringrazia del vostro tempo... e vi dà appuntamento... al prossimo video... di Ironman... che sarà l'uscita numero 109... grazie del vostro tempo... un saluto a voi... e a tutti i vostri cari più cari... ciao ragazzi... ciao... ciao...